Ultimamente molto consumo e il consumo è dovuto alla richiesta di vendita e quindi tanto spaccio. Molte facce che vengono da altrove, non da Arezzo e questo ci fa preoccupare perché, ripeto, un'altra volta, avendo vissuto quei tempi che noi vedevamo giorno per giorno andare sempre nel peggio, questo ci fa preoccupare. Siamo in Piazza Sant'Agostino, uno dei salotti buoni della città di Arezzo che negli ultimi mesi è tornato ad essere frequentato da spacciatori e consumatori di droga come non accadeva ormai da 15 anni. La zona riqualificata dall'amministrazione comunale oggi conta 34 attività commerciali che non ci stanno a ripiombare nei vecchi problemi. Assolutamente non c'è da criminalizzare però questa zona. Quanto è complice nel ritorno, quantomeno nell'inizio di un ritorno di queste frequentazioni, il fatto che i vostri locali, ad esempio, chiudono alle 18? Eh no, questo è ovvio che il buio, il non trascorrere la vita serale nella piazza, ripeto, con le famiglie, i nonni e i bambini stessi, porta ad avere un attimino l'occupazione del territorio di gente che non dovrebbe esistere proprio in queste zone, che sono zone veramente la nicchia della città, si può dire, Sant'Agostino ultimamente. L'ultimo fatto di cronaca in ordine di tempo è di poche ore fa un vero e proprio ride che ha preso di mira le auto parcheggiate nella zona. I responsabili sono stati arrestati. Un presidio delle forze dell'ordine o una presenza più puntuale è quanto richiesto oggi dalle associazioni di categoria. Conf Commercio in particolare ha scritto una lettera a questore e prefetto. Ecco, se ci fosse un po' di controlli più assidui, più fissi in piazza, sicuramente scoraggerebbe un po' a chi fa delle cose che non deve fare. Noi chiediamo un intervento, tanto è vero che l'associazione dei commercianti non ci abbandona. Abbiamo mandato una lettera a prefetto, a questore e anche all'amministrazione comunale per capire un pochino come possiamo risolvere questo problema. Niente di grave, 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 però siccome io in primis ho vissuto dei momenti, parliamo di 15 anni fa e voi conoscete benissimo, per portare la riqualificazione a questa piazza, ma non è che sono stato io l'artefice, siamo stati tutti insieme, l'anno è vero che una volta esistevano solo 15 attività commerciali, ora ce n'è 34. Cioè qualcosa significherà. Abbiamo portato solo del bene a questa piazza, vedi la ristrutturazione, vedi il restauro bello che è stato fatto, il vivere quiete delle famiglie, i nonni che giocano con i bambini in mezzo alla piazza. Noi vogliamo che continua così. Siamo veramente avvelenati, un po' per via della situazione, l'emergenza che voi sapete, quindi lavoriamo pochissimo. Poi vedere questi signori che strafanno nel nostro territorio ci dispiace da morire. La questione di piazza Sant'Agostino finirà anche nel prossimo Consiglio Comunale. Sarà il Partito Democratico, che peraltro ha la sua sede proprio in questa zona, a portare un'interrogazione. Sì, su questo credo che sia opportuna l'interrogazione al Comune, perché la piazza era stata rifatta dalle giunti centrosinistra, era stata donata a una nuova centralità, la stessa, e riteniamo che non debba tornare invece preda della microcriminalità, perché rappresenta uno dei cuori pulsanti di Arezzo.